Testa coda è in volo, Steph! Questo è stato bellissimo! Ancora! Ancora! Bello, bello! Questo mi è piaciuto, Steph! L'unica cosa che fa... Stiamo volando! Allora, ripreparati e continua! Per me sto volando, sto volando! Vai, 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 vai! Ho imparato a volare, te lo giuro, non sto scherzando! Vai! Prima challenge con il quad, si parte subito carichi! Facciamo un rampone massima altezza, prendiamo una scala utilizzando il turbo in quel momento e vediamo quanto cavolo può saltare! Allora, Ferretti, ti dico una cosa! Ci servono materiali, ci servono trappole congelanti, ci serve il quad! Poi che altro ci serve? Fammi pensare un pochettino! Mi sa che faremo il tutto nella zona viola, in modo tale che abbiamo anche quegli sbalzi lì, se vogliamo sfruttarli! Insomma, ci serve un botto di roba! Ok? Dobbiamo fare tutti i test possibili, immaginabili! Allora! È un po' come il video, quando abbiamo fatto quelle trappole congelanti! Esatto! Però su un altro livello, perché loro stessi, nella patch notes, io questo non te l'ho voluto dire perché ti volevo tenere carica per fartelo sapere sul momento! Hanno scritto che se tu usi il turbo nel momento giusto, ok? Dice che vuole ad altezza incredibili! Eh vabbè! Loro l'hanno scritto! E io dico, se hanno scritto quello e noi ci aggiungiamo le trappole congelanti e una rampa infinita, vogliamo davvero tantissimo! Ascolta, Steph! Anzi, no! Non riesco a luttare! Ferre, hanno rimasto a costruire questo palazzo per l'ennesima volta! Eh vabbè! Cioè, l'hanno finito di buttare giù di nuovo, vedi? Ed è solo stanno iniziando a costruirlo! Ma dai, che tristezza quel palazzo! Quindi è la seconda volta che lo demoniscono del tutto! Ti dicevo, Steph, sai nelle macchinette dove si possono trovare le trappole congelanti, però penso che bastano quelle che troviamo dei lama, dai! Esatto, Ferre! Cioè, in effetti poi ho realizzato che non ce ne servono così tante, quindi vado alla ricerca di lama! Ma guarda, infatti la cosa che mi preoccupa di più sono le macchinine! Io ancora non ho capito dove sponano! Però tecnicamente in playground sono sponate tutte! Sì! Quindi... E a Pinacoli non ce n'è neanche una! Ok! Quindi... Ma vediamo a Pleasant! Muy bien! Perché Pleasant, a Porco Pacifico, c'è anche il... Beh! Come si chiama? Il kart! Quindi magari se spona il kart hanno deciso di farci sponare anche il quad! È una logica che non funziona, perché qua c'era il kart ma non c'era il quad! E zitto! Però è una buona idea controllare! Quindi controlla pure! Vabbè, già che ci sono, scusami! Io sto controllando tipo nei parcheggi, queste cose così, raga! Cosa devo fare? Non sembra che sponi, eh! No, sì, ragazzi, non hanno... Lo ridiciamo, ovviamente! Non hanno detto i punti di spawn, quindi tu non sai minimamente dove trovarlo! Non direbbe farsi un gioretto in parco giochi, iniziare a memorizzarli e... Lo stiamo facendo! Eh, ma dico anche in altri momenti, perché sennò qua ci mettiamo una vita! Pere! Che è successo? Pere! Ma eccoli! Si trovano così parcheggiati! Guarda che bellino questo nella carriola! Che bellino! Che bello non è una carriola questa! Quindi bisogna puntare i parcheggi mini, quelli tipo per le moto! Ah, Boschetto c'è un son 4! Bello, hanno migliorato la nostra città, Steph! Assolutamente! Adesso mi metti anche i quad! Questa è la dimostrazione che è proprio Boschetto è la nostra città! Però aspetta, ne ho visto uno là! Sì, Steph, guarda! Dov'è? Fuori da Parco Pacifico, vicino a un autobus proprio qui fuori, non dentro la città! Ok! È un quad, vero? Sì, sta su un carrellino anche qua! E anche qua ce ne sono uno e due, Steph! Ok, ok! Sono praticamente me! Ora è chiaro, ora è chiaro perché tutti ce li avevano in game! Per ora che noi non capivamo dove erano, ora è tutto chiaro! Sono un po' fuori, capito? E anche questi sono attaccati al rimorchio dell'autobus e al rimorchio di quest'auto! Comunque va! Ne abbiamo già trovati un botto, sei, due secondi! Allora, Steph è pensieroso, mi servono delle trappole congelanti, perché voglio provare immediatamente le cose, ma in realtà sarei tentato, ok, Fere, di livare, oh mio Dio che bellina che hanno fatto questa casa, guarda! Ok, ah, bellina! Di livare e andare a provare queste cose nel modo miglior possibile! Togliamo la gravità dal gioco! Ma non vuoi fare un test normale? Lo facciamo al volo! Dai, lo facciamo al volo, ho detto che abbiamo trovato tutto, e poi... E qualche missione, sicuramente! Sai che c'è dolcetto e scherzetto tra un po' che siamo ad Halloween e magari hanno fatto la missione che devi suonare i campanelli, o no? Come l'hai rotto? Sì, a un certo punto sei rotto! È carinissimo comunque! E dicevo, dicevo, lo provo normale al volo e poi facciamo la low gravity con trappole congelanti, quad massima altezza, turbo all'ultimo e rampa! Ma raga, secondo me andiamo fuori dalla mappa! Vediamo! Sai qua, ti dico? Mmh! Che noi torniamo nell'isola di spawn! Dici? Scometti? Secondo me non si può più! Oggi torneremo all'isola di spawn! Ma Steph, io voglio vedere, cioè... Ti sto raggiungendo ma stai bello lontano! Arrivo, Steph! Non fare niente senza dimostrare... Nel mentre sto pittando! Ti rompo la rampa, guarda! Raga, andiamo, secondo me, davvero allo spawn island! Oggi noi torniamo allo spawn island! Io lo so! Lo so che ci riusciamo a fare! Quindi stai pronta? Sì, sto un attimino rotolando... Facciamo roba epica! Oggi è video epico! Follie! Epico! Parco giochi! Tutto insieme! Allora... Ah, mi fermo che ho paura davvero di centrare la tua rampa! Per la spawn island punteremo lì! Mi fermo un po' prima! Ok, va anche vicino al tragitto! Tu ne avevi trovato, Froze? Sì, 15! Mamma mia! Allora, salgo con il coso! Tu ne piazzi un pochettino? Dietro di te! No, però rischio solo di cadere! Facciamo la secca classica! Voglio vedere l'effetto che ha! Prima secca! Max speed e turbo! Poi liviamo e andiamo in quella con low gravity! E lì mettiamo tutto e andiamo proprio... A morire! In acqua! Perché tanto io ho misso... Esatto, come sempre! Acqua, quad perso! Ho riuscito a farne bene una di queste discese dalle rampeste! Non è vero! Vuoi salire? Mi metto così, pronta! Non iniziare! Comunque questa skin è perfetta! Cioè, questo ti fa capire, Steph, che io sono perfetta per i quad! Ok! Si va veloce in salita comunque con il turbo, eh? Sì, sì, sì! Secondo te riuscirò a fare le manovre? Non lo so! Siamo un po' a rischio, vero? Perché ho notato che la minima... Minimum speed, quindi la velocità minima che ha sta roba... È maggiore rispetto al kart! Allora aspetta, 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 aspetta! Fammi scendere! Penso di costruire una mini piattaforma, Steph! Non facciamo fesserie, dai! Scendi! Ok! Allora, non si può costruire più di così? No, però se mi fai due rampe sinistra e destra ho spazio di manovra! Ok, ti vanno bene le rampe, quindi? Sì, se me ne fai un'altra anche sotto e sopra è proprio easy-peasy! Ok, io volevo farti un piano, però... Ti va bene anche così? Ok! Vedi! Ecco, va bene! Pronta? Sì! Pronta? Sono in posa! Perre, non fare più quei salti! È il mio partito, scusa! Allora, devo ottenere un turbo per quando siamo lì? Siamo veloci, eh! Siamo molto veloci, eh! Lo so! In effetti, Steph... Usare il cervello... Devo usarlo... Devo usarlo prima, perché sennò spacchettino... No, e anche dopo, poi... Rimetti la rampa? Eh... Ma non ne vuoi mettere un po' di trappole? No! Sicuro? Voglio vedere che cavolo succede così, fare... Sai, ho rovinato tutto, come sempre! Perché rovino sempre tutto? Non lo so! Una volta in cui non rovino! Eh, ma è... È proprio una costanza del canale, Steph! È proprio fisiologico! Tutti fanno le cose strafighe, che gli escono sempre bene, super... Capito? Tecnologiche, arriviamo a noi e sembriamo fantossi, capito? Sì, sembra la nostra natura! C'è un qualcosa a cui non puoi andare oltre! Che anche se rifiuti di avere... Come Gonx, capito? Gonx cerca di fare il figo, però non ci può riuscire! Vabbè, ma noi non siamo da meglio, quindi non ha senso nominarlo, no? Beh, era per fare un paragone! Lo so! Vuol dire che siamo uguali a Gonx, che ti devo dire? È grave, Fede! Eh, lo so! Vai! Ecco così! Ma fa schifo! Ma che incredibili altezze! Ma Epic! Ma queste sono incredibili altezze! Un saltellino di 5 metri! Bene, andiamo in low gravity, va che se no qua mi altero... No, 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 no! Cioè, sei d'accordo, sì? Queste promesse non mantenute non mi piacciono per niente, Steph! Cioè, grandissime altezze! Ma dove? Tutti aspetti di scalare una montagna con un salto, invece no! Raga, non so se è voluto meno, ma l'Epic al momento ha rimosso i bouncer dalla parco giochi, perché abbiamo cercato per 20 minuti, abbiamo aperto una roba come 35 lama, neanche uno, non ce l'hanno neanche nelle vending machine, quindi ci arrangiamo con le pozzeriola. A livello di probabilità, secondo me, li hanno conto. Voglio un salto degno di essere chiamato salto, punto! Ok? Non è che chiedo molto, siamo qua a 25 minuti per fare sta roba! Ma fateci saltare, anzi di più, perché in realtà abbiamo già tolto una parco giochi, ci siamo a quanto? Siamo a 35 minuti per fare un salto! Fermo, 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 fermo! Vivamente salto ogni volta che scendo, capito? Sto cercando di fare le rampe al volo. Plati dovrebbero bastare. Sì, grazie, cara! Ecco, fatto! A cannone! Tutta la vita! Più veloci! Noi andiamo! A cannone! So che siamo più lenti del dovuto, ma il fatto di avere la low gravity, secondo me, ci pagherà bene. Pronta? Sì! A cannone! Ma schifo! Però... Testa coda è in volo, Steph! Questo è stato bellissimo! Ancora! Di volo, Steph, ancora! Bello, bello! Questo mi è piaciuto, Steph! L'unica cosa che fa... Guarda, stiamo volando! Ho imparato a volare! Allora, ripreparati e continua! Per il suo volare! Sto volare! Vai, 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 vai! Ho imparato a volare, te lo giuro, non sto scherzando! Vai! Guarda come si mette il tuo personaggio in piedi! Ecco qua! Questo è un problema! Ho rovinato tutto! Ok! Ecco qua! Però è stato bello, Steph! Questo mi è piaciuto, è stata l'unica cosa positiva! No, questa è una figata! Questa è una figata! Cioè, praticamente funziona così! Tu vai a cannone e devi planare... È come GTA! Vedi? C'è il balletto! Sì, sì, sì! Vedi? Esatto! Non dura tantissimo, ovviamente! Però aspetta, se ripigli, rifai il giro, Steph! Rifai il giro! Aspetta! Guarda! Bellissimo, bellissimo! Non ho il controllo! Continua, Steph! Nessuno ti può fermare! Capriola! Altra capriola! Stai facendo il full G-flip! Stai facendo un botto di roba! E adesso via! Si va a gire così! Poi così! Poi un altro giretto! Si riparte! Un altro backflip! Un altro backflip! Vogliamo il terzo? No, no, no! Il terzo non esce! Che poi ti posso girare il veicolo a destra e a sinistra? Ci ho fatto caso ora! Centro, destra e sinistra! No, l'ho schivato! Cavolo! Di pochissimo! Flippalo! È finito tutto! È finito tutto! È stato bello però, dai, Steph! Non essere depresso! Aspetta, fermo! Tipo a sinistra! Sì, vedi? Sì! Io ti posso far girare il veicolo a destra e sinistra! Tipo così, vai! Ma va, è pochissimo! Tranquilla, tranquilla! Voglio fare il testacodo al contrario, capito? Quindi tirarlo su da questa parte! No, non va! Ma così dici? No, al contrario, girando dall'altra, capito? Quindi così? Esatto! A fare tranquilla! Eh, ma io lo sto tirando! Guarda, Steph, è merito mio! Oh, è bellissima sta roba! Ma ti sembra che vogliamo con un quad? Poi ovviamente penso sia fattibile solo con la low grade! Certo, certo! Assolutamente! Quindi giusto per ribadirlo! Però è bellissimo! Cioè, qui si possono fare un sacco di cose! Nella playground, ovviamente! Però è divertente! Guarda! Ce la faccio! Vai! Pronta? Vai! Ma... 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 Ah! Steph non ci ha tirato su? Lo so! Perché? Non lo so! Riprova! No, non si demordere, vai! Comunque vedi? Noi filiamo tutto! Tutto non funziona! Ma poi troviamo le cose più epiche! Quello è vero! Quindi, alla fine... Veniamo premiati! Perché tentiamo talmente tanto... Dai, Occubo! Ma ci vuoi far volare? Guarda! Guarda come ci andiamo! Niente! Niente! Non ci vuole il vento! Non so perché! Ah, è stato bellissimo! Io sto quad lo adoro! Così come adoro il nuovo lanciarazzi! Mi piacciono tutti questi nuovi aggiornamenti! Sono i miei preferiti in assoluto! Steph! Sono molto più... Guarda come la Trico! Ah, ah, ah! Bello! Yuhuu! Mi fai cadere di testa! Mi rompi il collo! Un pochino! Ok! Un pochino! Ci fermiamo così! Abbiamo trovato la nostra soddisfazione! È stata maggiore di quanto alla fine mi sarei mai aspettato! Assolutamente! Perché è stato un qualcosa di incredibile! Sono iniziando ad essere triste! Anche io! E poi mi è tornata tutta la gioia di vivere! È stato bellissimo! Bellissimo! Nel caso, ci fermiamo così! Qua sotto, come sempre, accompagno di altri video! Abbiamo imparato a volare nella Playground! Iscrivetevi al canale Campellina! E ci vediamo al prossimo video! Ciao ciao!